Lo scorso giovedì 11 aprile si è festeggiato il Ciocco Day nella gelateria Barvinci di Fasano. Il suo titolare Carlo Vinci ha dedicato questa giornata alla degustazione dei nuovi gusti di gelato al cioccolato che adesso ci spiegherà con l'aiuto del dottor Di Marno, direttore commerciale di una delle più grosse aziende di distribuzione alimentare in Italia. Ho voluto dedicare questa giornata a tutti i miei clienti per far conoscere un po' tante qualità, specialità di gelato al cioccolato che potrebbero essere da un monorigine sino ad arrivare all'ultima scoperta che è il cioccolato rubi. Sono Donato Di Marno, sono concessionario dell'azienda Calbo, distributrice di cioccolato nella zona e dal mio carissimo amico Carlo Vinci abbiamo deciso di fare questa manifestazione, il Ciocco Day. Cos'è il Ciocco Day? È una manifestazione che serve a far conoscere al consumatore il gelato a cioccolato nelle sue declinazioni, ovvero non il gelato al cacao, bensì il cioccolato gelato. Questi gusti sono stati realizzati con del puro cioccolato belga, puro cioccolato e parliamo di cioccolato extra fondente pur origine, parliamo del cioccolato al latte, parliamo del cioccolato bianco miscelato con delle frutte, quindi con lampone, lime e in ultimo anche il gelato a cioccolato rubi. Il cioccolato rubi è il quarto cioccolato, è un cioccolato che si ricava in maniera naturale dalle fave di cacao, da un cultivar particolare e quindi da questo cioccolato rubi noi realizziamo il gelato a cioccolato rubi. Inoltre alla fine c'è anche un'altra bellissima novità che è un cioccolato caramellizzato, si chiama Gold, è un cioccolato dedicato ai golosi perché effettivamente è eccezionale, è buono, il caramello con il cioccolato crea una miscela irresistibile. Il nostro maestro Cesare Ciambarruto è venuto quasi dedicato a realizzare questa bella vetrina e abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei consumatori per quanto riguarda la qualità e per quanto riguarda anche la varietà di offerta.